Alla domanda qual è l'immagine di Dio, noi dovremmo rispondere nell'uomo e nella donna che si amano, diventano una sola carne e li vediamo. Ciò che ora vivrete è un'alleanza d'amore, è uno spasimo veramente d'amore, è la risposta a Dio, creatore che vi rende insieme, un'immagine, una sua immagine. Egli vi ha pensati dall'eternità, ha pensato per voi a questa unione che oggi voi dichiarate davanti a Lui. Siate consapevoli di questo dono altissimo. Alla domanda qual è l'immagine di Dio, Alla domanda qual è l'immagine di Dio, e ti mi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore.